E' un momento molto sentito e aspettato da tutta la cittadinanza perché 20 anni sono parecchi e quindi ogni persona, ogni cittadino si aspetta ogni anno questo evento che prima era presso la piazzetta di San Silvestro e da due anni or sono ci siamo spostati qua per problemi che aveva avuto la chiesa perché era in restauro. E' un momento di convivialità, di gioia, di stare insieme, dello stare insieme perché la tradizione popolare nasce proprio dallo stare insieme perché quando si sta insieme si canta, si mangia e è la cosa che facciamo noi stasera che abbiamo preparato anche delle degustazioni di prodotti tipici con le pettole e le frittelle. Quindi è un grande momento per tutta la cittadinanza e per tutta la città. Noi siamo qui stasera e il tempo purtroppo non ci ha accompagnato però finalmente adesso non piove più, ci sarà il gruppo del suo ballera che ci allieteranno con le loro musiche, i loro canti e dopo a seguire suoneremo noi delle pampanelle con la nostra musica locale. Santa Lucia è in primis la Santa della Luce, la Santa che preannuncia il Natale quindi con questa festa noi apriamo le danze per tutti gli eventi che poi verranno a seguire per il Natale.